Allora Stefano, io in telecronico ho detto che la fortuna è cieca, la sfiga, la sfortuna cede benissimo invece perché oggi senza Valentini, Touré è sostanzialmente out dopo 11 minuti perché poi ha provato, ma si vedeva che non era la sua partita, non ce la faceva in quella caviglia. La distorsione purtroppo è anche una distorsione importante, perciò adesso lunedì farà tutti gli esami, sicuramente andrà seguita con tutte le cautele del caso, poi si seguirà lo sviluppo, però la distorsione purtroppo è importante, l'ha preso proprio davanti alla panchina e ho visto che gli si è girata la caviglia lì davanti. Per 30 minuti però mi viene da dire che la squadra ha dato tutto quello che poteva dare e Vicenza anche dall'altro lato ha sfruttato sì le vostre defaianze, le vostre assenze, però ha già fatto una partita di buonissima qualità secondo me. Io sono d'accordo, Vicenza è una squadra di buona qualità, esperta nei ruoli importanti, nei ruoli chiave, con Nobile che sotto canestro chiaramente ha fatto differenza, è un giocatore importante, ha fatto molto bene. Noi però abbiamo dato tutto quello che c'era, cioè in queste condizioni qui ridotti all'osso, perché bisogna dire la verità che la squadra senza questi due giocatori è una squadra diciamo meno competitiva che quanto può essere in questo campionato. I ragazzi invece in campo hanno avuto una reazione d'orgoglio, hanno dato tutto quello che avevano e poi abbiamo fatto tre quarti ottimi, a mio giudizio, anche come qualità di gioco con buone azioni e tutto. Poi è chiaro che abbiamo fatto i nostri errori dopo la fatica e anche la differenza tecnica e fisica ha fatto il resto. Passami un'altra battuta, dal 2016 io penso che il primo elemento che vorrei vedere è un pochino più di fortuna sul fronte a infortuni, perché dal problema di Bianchi lo hai perso per quasi due mesi, l'infortuna di Valentini adesso e Touré, che sono sostanzialmente i due leader della tua squadra, ecco almeno giocare con la squadra al completo sarebbe già un passo in avanti. Ma questo speriamo, però è chiaro che purtroppo la realtà ci costringe a guardare giorno per giorno. Adesso, mi dispiace perché la squadra è in un momento di grande crescita e adesso ci dobbiamo di nuovo fermare, perché è chiaro che questa squadra vive di allenamento e con questi due infortuni la qualità degli allenamenti scende sicuramente anche il fatto di non poter allenare in 5 contro 5, viene meno. Perciò questo sarà un problema che si andrà a ripercuotere nelle prossime partite. Io spero di riavere i giocatori il prima possibile e poi è chiaro che dobbiamo tenere presente quello che è la nostra realtà, cioè dobbiamo cercare di uscire dalla zona play-out, almeno questo è quanto io cerco di voler arrivare e la quota sono 24-26 punti, perciò manca ancora tanto, non dobbiamo né esaltarci quando le cose andavano bene, ma neanche buttarci giù. Dobbiamo continuare solo a lavorare perché questa squadra dal 20 di agosto quando si è radunata, che io dico eravamo un gruppo di C2 che si radunava per fare una Serie B, oggi è una squadra che in Serie B ha un suo perché e sta in campo anche con orgoglio e questo sono contento perché vuol dire che i ragazzi sono cresciuti e dobbiamo continuare su questa strada. Punto finale sui due infortuni, Valentini oggi non rischiato, però probabilmente ci dovrebbe essere per la prossima partita. Le condizioni di Tourette nell'immediato posto come sono? Dici un po' qualcosa. Valentini viene monitorato ancora perché la Caviglia è molto dolorante, io spero di averlo in campo per Varese, non so in che condizioni ma almeno un pochino spero di averlo. La Caviglia di Tourette si è gonfiata parecchio e al momento non so dare una valutazione perché dovrà fare anche gli esami, radiografie e quant'altro, perciò al momento diciamo che Tourette per Varese non ci penso.